Sarà composta da Moretti a sinistra, lo lascia in campo chiaramente per un eventuale caso di finizione. Attenzione, prova Grappi, anticipato, arriva Moretti, ancora anticipato anche Moretti. Stellini però ne spinge, Grappi, si gira, traversa e poi ancora il gol! E in segno, trova ancora il gol, Dante Lopez! Dante Lopez, Dante Lopez, se ne è meritato veramente! È stato Grappi a protegger palla, poi ha tirato la traversa, ha ributtato la palla in campo e Dante Lopez si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto. Il terzo legno colpito dal Genoa, ma questa volta c'era Dante Lopez sotto misura, pronto a ribadire in rete. Tutto da rifare, era scattata in avanti la Serenitana, ci sono proteste, probabilmente per la posizione dei giocatori del Genoa, nel momento in cui la palla è tornata dalle parti di Grappi. Qui l'azione nella parte terminale, con Lopez che ribatte in rete. Un pallone che fin qui vale la qualificazione alla finale dei play-off. Genoa che ricapodelge l'esito del play-off. Qui il momento della traversa e Lopez che trova il gol più atteso.